Next is your new vision snack! Io sono contentissima di questa cosa e spero che piaccia pure a voi questo giveaway come altri ho fatto per esempio quello della Kawai Box e della Bippo Box è sponsorizzato dalla piattaforma Ruffelcopter per cui per partecipare vi lascio il link di Ruffelcopter in info box dovete cliccare questo link dopodiché vi aprirà una schermata nella quale dovete accedere o per email oppure attraverso Facebook ricordatevi però che il vincitore sarà scelto dall'email per cui se avete un profilo Facebook con un'email collegata che magari non vi ricordate utilizzate un'email di cui siete veramente sicuri comunque dopo essere entrati in questa piattaforma vi appare una schermata con circa 14-15 passaggi in ogni passaggio c'è scritto per esempio se seguite japankandybox su Instagram se la seguite sbarrate questa casella e mettete il vostro nome di Instagram oppure c'è un'altra casella nella quale c'è scritto seguite japankandybox su Instagram sbarrate la casella e mettete il vostro nome di Instagram e così per Twitter per Google Plus per Facebook e appunto anche su YouTube infatti per partecipare a questo giveaway occorre anche essere iscritta al canale e niente io spero che questo video vi piaccia scadrà fra 17 giorni se non sbaglio o 18-17 e comunque appena finirà il giveaway poi pubblicherò il video con l'email del vincitore che contatterò io personalmente e credo anche l'azienda comunque non lo so perché l'azienda mi comunicherà il vincitore per email e niente io spero che questo giveaway vi piaccia e un bacio e al prossimo video ciao